Tito Galante, allenatore dei ragazzi 2003-2004 Calcio a 11 del Cupello Calcio, un campionato a 11, è la prima volta per questi ragazzini? È la prima volta, sì, per il primo anno, gli altri anni partecipavano a quella 7 e quella 9, quest'anno per la prima volta abbiamo fatto questo esperimento e diciamo che è stato un ottimo risultato perché i ragazzi sono cresciuti molto in questo periodo e stanno migliorando di partita in partita. Vi vediamo spesso dividere il campo anche con gli altri allenatori, è un bel gruppo quello del Cupello proprio a livello di settore giovanile? Certamente, abbiamo qualche difficoltà quando ci dividiamo in vari gruppi perché specialmente loro che giocano a 11 avrebbero bisogno di più spazi, però purtroppo l'orario è questo e ci dobbiamo adattare. Però abbiamo dei ritagli di minuti, diciamo, quelle mezz'orette dove riusciamo con la massima collaborazione tra i tecnici a ritagliarci un pezzo di campo più grande per migliorare e affinare un po' la tecnica e la tattica per questi ragazzi. Quando si va comunque a giocare con le avversarie durante il campionato si sente quanto la differenza nell'allenarsi magari su un campo in erba sintetica? Abbiamo un po' di difficoltà adesso nei campi in terra perché i ragazzi si abituano al controllo della palla sul sintetico dove è più veloce e quindi quando andiamo sui campi di terra abbiamo qualche difficoltà per il rimpalso della palla, c'è la pozzanghera, c'è il buco, la palla cammina un po' di meno e quindi queste difficoltà si risentono moltissimo. E la stessa cosa quando vengono le altre squadre che sono abituate a giocare sulla terra hanno difficoltà per la velocità che trovano qua, di fatto noi dentro casa abbiamo un notevole vantaggio. Allenare i ragazzini è sicuramente bello, da tante soddisfazioni, ha però qualcosa di complicato? Ma è complicato che i ragazzi quando escono dai pulcini e arrivano all'età di 12-13 anni cominciano un po' a crescere, a sviluppare un po' tutto sia la personalità che il fisico, quindi trovano delle difficoltà per inserirsi nel nuovo gruppo perché sono altri ragazzi che vengono da fuori. Però le difficoltà sono normalissime per queste categorie, man mano che crescono si migliorano sempre di più. Si è sempre detto rispetto educazione e anche puntualità, anche il mister Tito Galante ci tiene tanto? Soprattutto perché loro devono crescere soprattutto nel rispetto della figura dell'allenatore, rispettare l'avversario, rispettare la società e rispettare l'orario significa cominciare a capire che cosa si sta facendo. E' come se uno andasse a lavorare, tra virgolette. Quindi per loro comincia già da questa età, dice noi dobbiamo non timbrare il cartellino ma imparare a rispettare certe cose che sono l'abc delle regole.